Quante cose dobbiamo ancora imparare dai Pooper? Quante cose dobbiamo ancora scoprire e capire dai Pooper? Io ogni Pooper che trovo mi sembra sempre meglio di quello precedente. Veramente io su YouTube Italia perdevo un po' la speranza quando vedevo in giro persone che litigavano per qualunque sciocchezza e per qualunque scemenza si bloccavano e litigavano. È per questo che io ho deciso di fare questo video tributo a un Pooper che ha fatto due video in un anno. Nell'ultimo ha fatto 145.000 visualizzazioni e dopo 8 mesi non ha ancora fatto un video. Chiunque, qualunque altro YouTube l'avrebbe fatto. Ma non un Pooper. Perché un Pooper non guarda i soldi. Perché non ha partner. Non credo che lo avrai mai. E non guarda il successo perché lui mette i video davanti alla sua persona. E quindi io ti faccio i complimenti e ti invito a fare un video. Perché il tuo talento secondo me si è già visto. Tu sei un bravo Pooper. Quante cose abbiamo ancora da imparare dai Pooper. E quanti Pooper ci sono ancora che noi non conosciamo. Un saluto a Puppamelo. Cercate il suo canale su YouTube. Prima che sia troppo tardi. Ciao a tutti.